Sforzatevi di entrare per la porta stretta! Cari miei, dobbiamo cominciare a metterci a digiuno per passare dalla porta stretta, e tra l'altro è anche una porta bassa, infatti per passare è necessario chinare il capo. Bisogna essere umili. Ma in che senso la porta è stretta? Che cosa significa? Innanzitutto significa che l'arco di tempo per passarci è breve, ed è il tempo della nostra vita. Gesù ci fa quindi un po' di pressione per invitarci a non perdere tempo, non aspettare l'ultimo istante quando sarà troppo tardi. L'arco di tempo per fare le nostre scelte è il tempo della vita. La porta è inoltre stretta anche nel senso che il Vangelo richiede una nostra consapevole adesione. È qualche cosa che deve essere accolto dentro di noi. Non è sufficiente che Gesù abbia predicato nelle nostre piazze e nemmeno che ci abbiamo mangiato insieme. Quello che conta è se abbiamo camminato con lui, se siamo stati suoi amici. Ma con tutti questi richiami rischiamo di spaventarci e di scoraggiarci, ma non è il caso. Certo è vero che ci sono alcuni che sono convinti di essere i primi e saranno gli ultimi. Ma è anche vero il contrario, ci sono alcuni che apparentemente sono ultimi e poi si riveleranno essere i primi. Questo significa che l'adesione a Gesù non è sempre una cosa evidente, come nelle vite dei santi. A volte è qualcosa di nascosto, di segreto, qualcosa di cui nessuno si accorge, eccetto Dio. Quindi resta sempre viva la speranza che il Signore ci sorprenda con la sua misericordia e farà entrare dalla porticina anche chi non ci saremmo aspettati. Grazie. 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 Grazie.